Ben ritrovati oggi in primo piano le prospettive di sviluppo soprattutto della piccola industria e nostro ospite negli studi di Otto Channel e di Benevento, il Presidente Pasquale Lampugnale, Presidente della piccola industria di Confindustria Campania, ben ritrovato intanto Presidente e grazie per la sua disponibilità, nominato da poco Vice Presidente Nazionale della piccola industria, quindi un incarico di grande prestigio ma anche di grossa responsabilità credo, insomma come ha affrontato questa nuova sfida? Sicuramente è una grande soddisfazione perché arriva dopo un percorso associativo di una decina d'anni che mi ha visto impegnato su Benevento, già a partire dal 2011 come Presidente dei Giovani Imprenditori, poi nel 2016 Presidente dei Piccoli Industri e poi dall'anno scorso in Confindustria Campania. È chiaro che arrivare a una posizione di vertice nazionale è una soddisfazione personale ma anche una soddisfazione di territorio e questo succede nel momento in cui c'è una Confindustria coesa forte e rappresentativa, quindi sicuramente è un risultato personale ma anche è un risultato della Campania e del Sannio. È importante perché ci sono state anche attribuite deleghe importanti, quindi i temi di economia, finanza e fisco sono alla base della struttura della piccola e media imprese e sono chiaramente temi strategici fondamentali. Ecco Presidente, chiaramente ci lasciamo alle spalle due anni di emergenza per via di questa pandemia che tra l'altro in questa fase si sta in qualche modo riaccendendo, ma in che modo possiamo dire che il virus, questi contagi hanno condizionato, questa emergenza sanitaria ha condizionato soprattutto l'economia del nostro territorio? Allora le prospettive dei più autorevoli centri studi, tra cui il nostro, ci dicono che l'Italia quest'anno farà un più 6,5% di PIL, quindi nei primi mesi del 2022 avremo recuperato quanto perso nel 2020, quindi durante la fase più importante della pandemia. È chiaro che la variabile sanitaria è una variabile importante, quindi queste previsioni sono state realizzate al netto della diffusione del virus che soprattutto nelle ultime settimane sta circolando molto di più. Quindi io credo che da questo punto di vista c'è l'avvio di un ciclo espansivo dell'economia, ma dobbiamo essere molto attenti perché il virus continua a circolare e quindi i nostri comportamenti, soprattutto durante queste vacanze di Natale, devono essere di buon senso, in quanto credo che la priorità del Paese sia quella di tenere il Paese aperto e quindi soprattutto le attività economiche aperte, perché le cicatrici della pandemia sono ancora fortissime e ci sono alcuni settori in particolare che hanno sofferto più di altri e ci dobbiamo in qualche modo proiettare verso un recupero importante. Ecco, stiamo vedendo tra l'altro le immagini del lab di Confindustria, proprio a Ponte Valentino. Confindustria è stata in primo piano, possiamo dire, nella lotta al Covid e ha favorito in maniera consistente proprio nel Beneventano questa campagna vaccinale. Confindustria, insieme al Presidente Vigorito, che saluto e ringrazio, è stata la prima associazione di categoria in Italia ad aprire un hub vaccinale e questo l'abbiamo fatto col contributo del Presidente e di tante imprese che hanno voluto sostenere questa iniziativa realizzata in pochissime settimane, grazie anche all'Astri di Benevento. Tant'è vero che abbiamo avuto all'inaugurazione la presenza del Presidente Bonomi, il nostro Presidente nazionale, che ha premiato il Sannico come eccellenza. Lo abbiamo fatto perché siamo partiti dalla consapevolezza che aprire le fabbriche o comunque contribuire a creare dei luoghi in cui proteggere i nostri lavoratori e quindi fare in modo da ridurre la circolazione del virus fosse fondamentale, quindi dare da questo punto di vista un contributo anche allo Stato. Lo abbiamo fatto ed è stata un'esperienza importante e faremo ancora con il nostro impegno cose straordinarie perché alla fine noi siamo sì un sistema di rappresentanza che tutela le imprese, ma in qualche modo siamo istituzioni locali, quindi a servizio anche del territorio. Torniamo alle prospettive delle piccole e medie imprese. Adesso abbiamo davanti la sfida del PNRR, una grande opportunità, viene sottolineato un po' da tutti. Come va sfruttata secondo lei questa grande occasione? Il Piano Nazionale di Pesa e Resilienza è la risposta dell'Europa alla pandemia e quindi già è un primo d'assolio importante perché l'Europa per la prima volta ha assunto debito in prima persona come istituzione e l'ha trasferito in qualche modo come finanza agli Stati membri. Da questo punto di vista credo che l'Italia, destinatale di oltre 200 miliardi, possa giocare una partita fondamentale. All'interno di questo contesto il Sud chiaramente è quello che avrà il 40% dei fondi e quindi l'obiettivo è quello di ridurre i divari. Credo che da questo punto di vista il PNRR possa essere sicuramente una sfida importante per modernizzare il Paese per ridurre i divari tipici del mezzogiorno, ma dobbiamo lavorare molto affinché venga realizzato quel cronoprogramma di riforme che è in qualche modo collegato alle erogazioni del PNRR, ma soprattutto avere anche la capacità a mio avviso di aggiungere anche la quota di fondi europei nella programmazione 21-27 che sono anche essi importanti. Credo che da solo il PNRR può dare una mano, ma la sfida vera va vinta dal sistema nel modernizzare il Paese e da questo punto di vista credo che un elemento di modernizzazione sia necessario anche all'interno del contesto delle imprese. Quindi vanno bene i fondi pubblici, ma molto è legato anche all'iniziativa privata. Prendiamo ad esempio la transizione ecologica, abbiamo stimato che possa valere circa 650 miliardi, questo significa un grande contributo da parte delle imprese e chiaramente non devono essere lasciate sole e quindi credo che la cosa più importante del PNRR al di là dei fondi sia la missione, siano le 6 missioni strategiche perché in qualche modo tracci il futuro dell'impresa digitale, di un territorio più green e di un contesto che chiaramente va verso un rinnovamento generale. Si parla infatti di transizione ecologica, ma anche di transizione digitale, è inutile negare che da quest'ultimo punto di vista le zone interne soprattutto nel mezzogiorno scontano dei ritardi, possiamo dire, atavici. Ecco, questa sfida adesso come va affrontata sia sul fronte della transizione energetica, la nuova battaglia per le rinnovabili, sia dal punto di vista di una maggiore informatizzazione del sistema industriale del nostro territorio? La sfida del digitale è chiaramente una sfida che noi dobbiamo ancora vincere nel senso che se ne parla da anni, dieci anni fa le più grandi società per capitalizzazione a livello mondiale provenivano dal settore manufatturiero, dal petrolio, oggi sono nel mondo digitale. Ciò significa che anche il nostro tessuto economico e imprenditoriale si sta modificando moltissimo e purtroppo noi riscontriamo che c'è un divario di competenze e un divario di progresso tecnologico all'interno delle PMI. Questo chiaramente rallenta un percorso di crescita indipendentemente dai settori. A questo ci aggiungiamo che ci sono anche dei divari di natura infrastrutturale, nel senso che il mezzogiorno in particolare, ma le armi interne ancora di più, sono in qualche modo lontane da un progresso tecnologico, ad esempio di infrastrutturazione del territorio e questo significa che è impossibile attuare quel modello di industria 4.0 che l'Europa ci sta chiedendo ormai da 4-5 anni in assenza di connettività che sia in qualche modo di sostegno all'impresa. Ma credo che la sfida vera sia quella delle competenze, nel senso che il nostro sistema industriale ha sicuramente delle eccellenze, ma per molti aspetti, soprattutto nelle imprese più piccole, e la campagna è fatta da tantissime micro-imprese, c'è un divario culturale importante che renderà difficile questa competizione. Quindi da questo punto di vista il ruolo che possiamo giocare noi come Confindustria, anche attraverso la rete di Digital Innovation Hub, è proprio quella di diffondere la cultura dell'innovazione e del digitale. Altro tema invece è quello della tradizione ecologica, che come dicevo prima conta moltissimo, si sta ragionando molto in termini di cambiamenti climatici e quindi di un sistema industriale che sia rispettoso dell'ambiente. Da questo punto di vista credo che non basteranno i fondi del PNRR, ma anzi lo Stato deve essere vicino a quelle imprese che hanno bisogno di cambiare modelli produttivi. Ad esempio immaginiamo la siderurgia italiana, che è un passo avanti rispetto ad alcuni contesti europei, ma chiaramente per produrre nel rispetto dell'ambiente dovrà fare grossi investimenti. Quindi noi dobbiamo preservare il sistema industriale nazionale dando un contributo a quelle che sono le aziende d'eccellenza. Ecco, lei ha toccato il tema delle competenze, oggi per un effettivo rilancio delle imprese si scommette su innovazione e formazione, ma le chiedo cosa deve cambiare soprattutto nel rapporto tra imprese e mondo scolastico? Io credo che l'impresa deve entrare nella scuola e in università, ma come hanno fatto ad esempio le banche circa dieci anni fa, l'università e la scuola devono andare e uscire fuori e entrare nelle imprese e rendersi conti di ciò che serve realmente. Noi abbiamo un gap che è di competenze, ma anche motivazionale di tantissimi giovani, che finiscono il percorso di studi e sono in qualche modo spesati rispetto ad un percorso lavorativo. Da questo punto di vista il percorso di specializzazione universitaria non è sufficiente, credo che bisogna lavorare molto per acquisire competenze anche nella fase post laurea, ma soprattutto noi riteniamo che alla base di un rinnovato mondo di competenze si possa far molto attraverso gli istituti tecnici superiori, quindi attraverso gli ITS che sono nati circa dieci anni fa per una mancanza di tecnici specializzati all'interno dell'industria, che nascono sul modello tedesco, ma che oggi occupano solo 18 mila persone. Se andiamo a guardare questi dati, i dati ci dicono che i giovani che dopo 24 mesi escono dagli ITS trovano facilmente il lavoro e trovano un lavoro che sia coerente rispetto al percorso di studi, quindi facendo registrare percentuali di oltre il 90% significativi rispetto a quelli universitari. Quindi oggi noi viviamo una complessità, da una parte l'impresa non trova le figure professionali necessarie e dall'altra ci sono tantissimi giovani, soprattutto nell'alintena e nel mezzogiorno, disoccupati. Quindi dobbiamo lavorare per un allineamento in questo senso e a breve, nel mese di gennaio, si chiuderà un bando che andrà a finanziare 6 nuove fondazioni ITS e da questo punto di vista credo che questa possa essere una sfida per decubblicare i 18 mila studenti in formazione in questo momento anche attraverso il miliardo e mezzo previsto nel PNRR. Su questo il Presidente del Consiglio Draghi è molto sensibile perché chiaramente sa che questa è la strada per dare futuro a tanti giovani e quindi noi siamo convinti che andare verso figure specializzate, non necessariamente laureate, quindi con diplomi superiori sia una sfida importante da seguire. A proposito della strategia che sta mettendo in campo il governo Draghi, c'è stato un pezzo di sindacato che è sceso in piazza per contestare la manovra finanziaria, qual è invece il vostro giudizio? Come valutate le misure che sono state pensate a favore delle imprese? La manovra è sicuramente incoraggiosa perché parliamo di oltre 30 miliardi, circa 36, fatta per due terzi in deficit, ha sicuramente all'interno alcune cose positive, ci aspettavamo forse qualcosa in più, sicuramente è importante la quota destinata alla riduzione della pressione fiscale, 8 miliardi, noi ci aspettavamo forse 10-12 e riteniamo che sia doveroso concentrare queste risorse sulla riduzione del cuneo fiscale, dove il nostro paese è comunque regista tra le percentuali più alte d'Europa, ridurre il cuneo fiscale significa mettere i soldi in tasca ai lavoratori e liberare risorse per le imprese che possono investire. Poi c'è un'altra quota importante sulla riforma degli ammortizzatori sociali e anche sulla sanità anche per l'acquisto dei vaccini. Io credo che la cosa negativa sia sicuramente l'abolizione del patent box, in quanto in un paese che già investe poco rispetto al PIN di ricerca e sviluppo, andare a indebolire la capacità di fare brevetti non sia una scelta positiva e quindi su questo noi siamo stati molto diretti perché riteniamo che debba essere prorogato questo strumento. Poi c'è una parte che riguarda chiaramente gli incentivi nel mondo dell'edilizia che è un settore importantissimo in Campania, soprattutto nel mezzogiorno d'Italia, perché questi incentivi stanno realmente trenando la ripresa e lo vediamo anche dalla speculazione che si sta facendo sulle materie prime. Un altro aspetto un po' deludente riguarda forse la liquidità, nel senso che il sistema economico, soprattutto le PMI, ha tenuto perché sono state messe in campo misure straordinarie per la liquidità e per le garanzie. Quindi aver rinnovato il fondo di garanzia fino a giugno, reintroducendo le commissioni, ci fa capire che probabilmente questo istituto verrà in qualche modo depotenziato. Ricordiamoci che il 60% delle imprese, soprattutto il PMI, hanno aderito alla moratoria e alla garanzia bancaria. Questo ha messo in condizione il Paese e l'economia e le imprese di sostenere questo momento complesso, ma ora che ci avviciniamo verso un periodo sostanzialmente diverso, credo che dare un ulteriore sostegno alle imprese sia significativo per mantenere in piedi le imprese stesse. Ce ne sono tantissime che già in fase pre-Covid erano tecnicamente cosiddette zombie e da questo punto di vista credo che un sostegno ulteriore sia necessario. Siamo sicuramente in una fase cruciale per il mondo delle imprese, soprattutto nelle zone interne della Campania. Si cerca di guardare al futuro con una prospettiva diversa, alla luce anche delle risorse che arriveranno. Ecco, le chiedo per chiudere questa nostra intervista 2022. Che anno sarà per la nostra economia, soprattutto di questo territorio? La Campania, diciamo, fino al 2019 ha fatto registrare un percorso di crescita molto importante, con una quota di export che è cresciuta in modo sostanziale al di sopra delle percentuali registrate in altre regioni. Noi abbiamo chiaramente delle punti di specializzazione, come il lavoro alimentare, l'automotive che sta soffrendo moltissimo, c'è un po' l'ICT molto importante a Napoli legato all'Academy di Apple. Quindi ci sono oggi le condizioni per crescere perché la nostra regione ha la capacità di attrarre investimenti, anche attraverso le importanti opere infrastrutturali che si stanno realizzando in regione Campania e anche grazie a questo istituto delle ZES che sta a partire, ma che di fatto ha trovato in regione Campania la prima applicazione. Ora, da questo punto di vista credo che bisognerà probabilmente lavorare per ridurre i divari tra le aree interne della Campania e le aree costerie metropolitane. Perché se guardiamo i dati delle singole province, vediamo che ci sono le province di Napoli, Sareno e Caserta, che possono ritornare a crescere dal 2022 attraverso un percorso interrotto dal Covid e ci sono invece le aree interne, in particolare il Sannio e l'Irpinia, che vivono un graduale spopolamento e una riduzione di servizi essenziali. Quindi credo che da questo punto di vista noi dobbiamo fare una grande opera di coesione insieme all'Irpinia per rivendicare l'importanza del nostro territorio sotto tanti punti di vista e fare in modo che anche queste nostre zone, queste nostre aree vengano prese in considerazione in modo significativo per evitare che tanti giovani vadano via. Speriamo davvero che ci sia un'inversione di tendenza. Grazie allora Presidente Pasquale Lampugnale, ricordo Presidente della piccola industria di Confindustria Campania. Grazie per questa intervista e chiudiamo per ora questa nostra rubrica in regia per noi Aldo Fenizia e grazie naturalmente a quanti ci hanno seguito. Arrivederci.